Anfa, ciao a tutti ragazzi, qui Canlupo Ed oggi sono qui per dirvi un'altra cosa Come avete visto dal titolo, questo è un altro gioco che non ho mai portato sul canale E dovreste decidere voi se Se devo continuare questa serie sul primo canale Facendo un video a settimana ogni lunedì Che prenderà il posto di video di code Un video a settimana che durerà 30 minuti Questo dura 20 perché comunque è una semplice introduzione Che ci ho fatto anche un po' di de-editing E... Appunto Ogni 30 minuti a settimana Ditemelo voi Sono senza occhiali perché se no Se metto gli occhiali vedo il riflesso dello schermo In mezzo al cazzo, vedete? Quindi, diciamo così Io ho registrato 3 gameplay Però i due erano i tutorial E questa era la parte della storia Allora ho deciso di legare i formati del tutorial Concludito la storia e così è uscito un video di 20 minuti Comunque vi spiego un attimo che cos'è The Witcher 2 è un gioco Appunto È un gioco acquistato su Steam Tramite G2A Il link di G2A lo trovate sempre in descrizione Costa 6,40€ su GDA L'ho pagato Mentre su Steam costa mi pare 8,90€ Ora non sto sicuro E... Intanto è tratto il mio cane E... E quindi vi consiglio di andare a comprarla Se anche voi ci volete giocare È un gioco stupendo su Wikipedia In forma di una maniera di cose Io non l'ho letto tutto perché certi erano spoiler Quindi se volete leggere il gioco Ditemelo e fatemi sapere se volete che continui questa serie Insieme a voi Sul primo canale Anfaccio a tutti ragazzi Guardatevi il video La cane lo vuole Anfaccio a tutti ragazzi Via Dai Via passare Via etta Questa 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 In Questa 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 . Oh, c'è l'epic. 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 Gaines can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Madonna. A te è il primo che ammazzo. Tu sei il primo che ammore. Tu sei il primo che ammore. Tu sei il primo che ammore. Why? The dice didn't rule. Call me a cheat. Take it back. Look, he's awake again. Monster slayer my ass. A regular harsin. I heard witches all start out this roadside hall. He was taken in by mages. Mages who experiment on him. Folks say, they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought he died. I'm not so easy to kill. I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Walk around behind me if you wanna shake. Oh, how foolish are you. How foolish are you. Who is that? Who is that? Who is that? He's the wrong, right? Geralt. A Rivier. Care to introduce us? No thanks. Bring something to drink. We can't sit here. Cottonmouth. Sì, non è vero. E' stato un lungo giorno, voglio sentire... Tu eri a mia parte quasi tutto il tempo dopo che la ponte ha colapsato. Questa. Ah! E' lo chiamato non può non riesco a wanna. Un'ator da una staglia è stata doarta. Report! Rivera per il cazzo continua, e un gruppo di rebeli ha barricadato. Uno dei miei captioni? Posso? In la chiesa, signora. Fenni prende un prezziatore a cuore siete. Fini ha parlato di qualcosa di costa... Lei non mi piace di farla... That will also take time But what other course do we have? This priest I fainted for I could really get going on him He's under guard below You've some work to do, come on Yes, sire Silas, you look to this door Fen, come with me Witcher Your grace I have a mission for you One suited to your abilities Vernon can be persuasive But he's also hot-tempered At times losing both his You must try to find this other passage on your own Succeed All right, I'll I'm relying on you Where are those axes? Move your arses I'm fishing with self-aberted I positively detest all temples Watch out for fence He's downright daft That's all the other one We're innocent The king will decide your fate Lola Lola Boom Oh no! Quattro! Vai vai, vai! come arrivo porco di chi ci spacco tutto no 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 ah devo scendere nel pozzo? devo scendere nel pozzo? in realtà dai raga? che abbassa un po' il volume di The Witch così così dovresti sentire meglio la mia voce The Witch ecco qua così dovrebbe andare molto meglio e ancora non ho capito come cazzo si salta dove sta? come cazzo passo? ah che avevo visto ah che f*** aah 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 Oh no, che combo! Oh no! Come andiamo! No! 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 metti io lo spunto via dai cazzo c'ho un mostro dietro ah si è perso da solo, stavo già usando la cuglia stai 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 non !!!! ma che può fare ah non serve passare da qua devo ritornare sotto guarda guarda devo scendere guarda un attimo vedi la roba che c'è abbiamo tutto cazzo ce ne ho capito ma non è sapeva per culo sto gioco dove va na' prima non mi è stata aperta vabbè dai vabbè non ci abbiamo bisogno di roba noi andiamo a mettere il sacco non ci abbiamo bisogno di roba noi non ci abbiamo bisogno di roba noi vabbè non funziona eccomi arrivo a romper culo a tutti ora porco di sciammazzo tutti un balle per tutti guarda madonna proprio bello questo gioco guarda non posso abrì? no 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 estas I am born dead! Kill the witcher! Not a ledge! Don't work! Attack! Don't work! Yeah! 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 Oh! Oh! Massimo bello! No! No! Oh, che è questa cosa? Uh, tutto, tutto! No! 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 No!